un altro luogo interessante è il capitale dell'immacolata santissima qui ai piedi dell'edicola sorge una piccola sorgente d'acqua che è ritenuta mericolosa per curare e proteggere la vista e sanare vari disturbi fra i quali l'emicrania non che proteggere le fertilità umane qui abbiamo misurato tra i tra i 13 e 15 mila bovis sull'edicola la misura sull'acqua non ne concorde ma potrebbe essere simile ai 13 mila dell'acqua potrebbe essere simile ai 13 mila della cappella comunque è un luogo di un certo interesse tutta la zona sia la chiesa che misura 18 mila e sia questa cappella 13 15 mila possono essere ritenuti certamente dei luoghi alti luoghi che in molti casi possono essere raggiunti sono sugli altari di alcune chiese di grandi cattedrali a presto